Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Tu hai qualcuno in famiglia che ha sofferto di reni, soprattutto reni sinistro? Sì, mio padre. Ecco, vedi, ho avuto un dolore al reni sinistro adesso, per quello che ti ho chiesto. Insomma, te lo dico perché mi ha fatto sentire questo dolore e ha voluto che te lo dicessi. Ha avuto un tumore al rene e gliel'hanno tolto. Vuoi sempre aspettare di vedermi in privato per dirmi qualcosa? Sì, sì, sì. Te l'ho detto perché mi è arrivato questo dolore e ho detto glielo devo dire perché io non ho male i reni, perciò è un segnale che mi ha mandato lui. Probabilmente sa che ti deve dire qualcosa, allora sei già pronto. Allora Susi, piacere di averti qui. Grazie, è un piacere mio. Assomiglia a una persona che ha fatto parte in un certo quel modo della mia vita per molto tempo. L'ho un po' raccontato ai miei autori perché tu sei amica di un mio autore che è Mauro Medaglia. Sì. E lui mi ha raccontato di te sin dal giorno 1. Cioè quando ha cominciato a lavorare con me per One More Time in questa stagione mi ha raccontato la tua storia. E quindi abbiamo rimandato il discorso ma l'abbiamo sempre tenuto lì, no? E quindi sono contento di riuscire a fare questa puntata in questa stagione. Io ho avuto un'esperienza in passato con una donna che non c'è più, si chiama Silvana. Era un'amica di mio papà e questa donna mi ha in un certo qual modo condizionato la vita. Quando ero giovane, nel senso aveva come te un dono, non lo stesso tuo dono, però riusciva comunque a, più che a vedere, ero piccolo. Poi ero adolescente quindi non te lo so spiegare in modo preciso perché non gliel'ho mai chiesto perché temevo anche di fare questa domanda. Però lei riusciva a parlare con l'aldilà. E quindi quando mio papà a un certo punto si è aggravata la sua malattia e quindi era molto nervoso, la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa chiedevo a mia madre com'è il papà oggi? E quando mio papà era molto nervoso e quindi era imprevedibile quello che poteva succedere, io andavo in una cabina telefonica perché non potevo farmi sentire da lui, abitavo in Brianza e chiamavo questa Silvana. Lei staccava il telefono quasi tutto il giorno per fare le sue cose e in alcune ore era libero, quindi magari stavo ore e ore alla cabina telefonica e chiedevo a lei di calmare il papà a distanza. E questa cosa mi ha molto condizionato, nel senso che poi lei a un certo punto mi, come dire, diceva cose che sarebbero potute accadere in futuro sulla mia persona, non più inerente a mio papà, e questo non mi ha più lasciato la libertà mentale di scegliere per me e quindi a un certo punto ho voluto completamente staccare. E questo non ti so dire se ha un'accezione positiva o negativa, ho sempre creduto in lei e in quello che lei mi diceva e in quello che lei poteva fare e ho anche assistito personalmente a delle cose che possono far paura se non sei pronto. E poi si è manifestato un'altra persona simile nella mia vita, che si chiama Maddalena, con cui non ho mai voluto avere un rapporto, non perché non credessi in lei, ma perché non volevo essere condizionato. Quindi oggi io parlerò con te in modo molto aperto, perché io credo e quindi ci sono molte persone prevenute, ci sono molte persone che per partito preso dicono ma che cavolo dite? Invece io assolutamente credo, ho guardato cose tue, un po' di dirette che hai fatto e quindi mi è chiaro l'argomento, ne sono molto affascinato, quindi oggi sarò uno spettatore, ti farò parlare. So che hai avuto una vita burascosa e adesso ce la racconti, so che vedi delle cose, quindi se vorrai dirmi delle cose sono aperto, non ho paura, anzi lo ascolto e lo accolgo, lo farei tu quando vorrai, ma partiamo dall'inizio. One more time è la storia di una persona dalla nascita al momento odierno in cui ci stiamo parlando e quindi partendo dall'inizio raccontami la tua vita, quando sei nata, dove, che infanzia hai avuto e poi proseguiamo. Ok, sì ho visto la trasmissione, mi sono andata a documentare, molto bella perché è familiare, mi piace questa cosa, questa comunicazione, perciò mi è piaciuta molto, sono andata a curiosare su internet. Hai fatto bene. Hai detto una cosa molto giusta prima, voglio soffermarmi su questa cosa, che non bisogna farsi condizionare, bisogna viverla in un modo molto semplice, è un mondo molto particolare, molto bello, però è giusto vivere la vita terrena e non farsi condizionare da tutto questo. Bisogna viverci, io ormai sono abituata perché fin da piccola ho questa cosa, io sono nata a finale miglia il 4 luglio del 62 o 60 anni e ho vissuto con tre donne, mia nonna, mia bisnonna e mia mamma. Mia mamma e mio papà si sono sposati dopo, quando io avevo già più di un anno perché mio papà era un finanziere, perciò faceva carriera nella finanza, di conseguenza non poteva sposarsi appena sono nata. Perciò ho vissuto con mia nonna e mia bisnonna finché non si sono sposati, poi si sono trasferiti a Mestre. Loro si sono conosciuti perché mia mamma faceva la mondina, lui aveva a Cameriano delle risaie, i suoi genitori avevano delle risaie, perciò si sono conosciuti in questo modo, innamorati e poi sposati. E ho vissuto fino a un anno, un anno adesso è un mese, se non lo ricordo esattamente, perché non ho memoria di quel periodo lì, ce l'ho dopo, molto chiaramente dopo. Sono andati poi a Mestre, si sono trasferiti a Mestre, quando mio padre è morto in questo incidente che io avevo un anno e mezzo, lui è morto il 3 maggio, ho avuto questo incidente… Cioè 3-4 mesi dopo il matrimonio? Sì, 3 mesi dopo il matrimonio proprio, 3 mesi dopo il matrimonio, sono andati ad un matrimonio, guidava un suo amico e c'era mia mamma e aveva bevuto, praticamente è stato causato da questo ubriaco e è morto praticamente nella notte sul colpo, è sceso dalla macchina, stava bene, poi è morto sul colpo, pensa che io… Solo lui? Solo lui, solo lui, è morto nella notte con un'emorizia cerebrale, aveva 28 anni, pensa che io ho un ricordo, l'unico ricordo che ho, terreno diciamo, è di quando era sul letto di morte praticamente e poi ho chiesto conferma poi a mia nonna, era nella camera da letto, caricato su questo letto vestito di blu, una volta avevano quei letti con i ceri da parte, i quattro ceri e io ho questa scena molto chiara perché ho dei ricordi chiarissimi, la cosa strana dei miei ricordi è che io li vivo, dal momento in cui li ricordo li vivo proprio in un modo molto amplificato e ero andata sul letto e ho questa scena, infatti poi pensavo fosse un sogno, invece no, mia nonna mi ha detto che era reale, io avevo questo atteggiamento con mio papà quando era sul letto di morte, poi siamo ritornate a vivere con mia nonna perché poi mia mamma, siamo tornati a vivere a casa sua e abitavamo fino all'Emilia, via cimitero numero 13, perciò è stato un programma già programmato e c'era questo rione che chiamavano Cima 11 dove c'erano queste famiglie dove noi bambine siamo cresciute praticamente insieme, io ero molto legata a mia bisdonna, mia nonna Mariucina, una donna che ha sofferto tantissimo, ha avuto tre figlie, non si sapeva chi era il padre, nessuno ne ha mai parlato, la cosa strana è che nessuno anche nel rione non ne parlava nessuno, io ero affezionatissima, aveva un occhio di vetro, aveva avuto un'infezione durante il tempo di guerra, poi dopo nel tempo quando lei se n'è andata io ho saputo che è stata violentata da dei soldati in tempo di guerra, perciò il padre non si sapeva per quel motivolino, nessuno ne aveva mai parlato per quello, è stata un'infanzia bella sotto un certo aspetto perché ero affezionatissima a mia nonna, ma ero morbosamente legata a mia madre e mia madre non era disponibile, scusa se mi emoziono ma io ricordare il tempo non è facile, come hai detto prima lo vivi anche in maniera amplificata, lo vivo molto forte, perciò avevo questo legame morboso con mia mamma che Guayaki me la toccava, se cadeva piangevo una giornata intera, ho proprio i ricordi quasi più quelli che mi hanno fatto soffrire, ho avuto la fortuna che dal momento in cui mio padre se n'è andato io lo vedevo come vedevo te, ce l'avevo lì, non ho sofferto il distacco della morte perché per me c'era, l'ho vissuto molto tranquillamente, mi ha guidato penso in un modo molto forte proteggendomi, non avevo l'affetto di mia madre perché era presa da tutt'altre cose, poi litigava con mia nonna, insomma c'erano sempre queste discussioni in casa, era una famiglia unita però molto contrastante, perciò c'era questa cosa, ma io avevo mia bisnonna perché c'ero molto legata a lei, l'affetto ce l'avevo con lei, giocavo con lei e ho dei ricordi bellissimi ma dei ricordi molto forti, poi mia madre ha cominciato a frequentare un uomo, una persona giustamente perché era molto giovane, aveva 23 anni mia mamma. Dopo quanto tempo? Dopo poco tempo, dopo poco tempo, penso dopo un paio d'anni, non di più perché io questa persona me la ricordo nella mia crescita, non so dirti esattamente l'età, era un uomo impegnato perciò non era una relazione che poteva coinvolgere la famiglia, che poteva coinvolgere me, capito? Era una relazione un po' particolare, però sì da lì io mi picchiava molto, cioè non aveva questo filo umano materno ecco e poi c'era questa solitudine. Tua mamma ti picchiava? Sì, ne ho prese tante io e mia mamma, ma perché lei è cresciuta in questo modo, cioè io ora la capisco, quando sono cresciuta ho capito, quando sei bambina non lo capisci, ti arrabbi, sei delusa, stai male, poi nel tempo l'ho capita perché comunque anche lei ha avuto un'infanzia, mio nonno si è suicidato, ha mollato la famiglia, insomma c'è stata tutta una serie di cose che non è cresciuta neanche lei col padre, di conseguenza. Io invece ho avuto la fortuna che mio padre ce l'avevo proprio vicino, perciò io vivevo due vite parallele, non so se riesco a spiegarmi, avevo questa terrena che era dolore e sofferenza, l'altra parte invece era solo amore, perciò per me è stato difficile questo, accettare questa vita, perché non ci volevo stare, se sto bene là con lui invece no. Spieghiamolo un po' meglio. Sì. Quindi quale dono hai avuto dalla nascita? Te ne sei resa conto un anno e mezzo, giusto? Hai avuto la tua prima? L'ho sempre avuto, l'ho sempre avuto. Che dono hai? Io non lo considero un dono. Non? Luca. No, no, ti spiego anche il perché, perché comunque affronti delle cose molto difficili, molto pesanti. Poi mi ritengo la persona più fortunata del mondo, perché ho apprezzato questa vita, affronto i problemi in un modo molto diverso dagli altri, non c'è preoccupazione per me, c'è sofferenza ma non c'è preoccupazione. Io la prima volta che ho visto mio padre, che ho il ricordo di mio padre, penso di aver avuto due anni, due anni e mezzo, in questa cascina dove loro abitavano a Cameriano, al mulino nuovo, era questa cascina che chiamavano così. Mio zio aveva tutti gli animali, avevano le risaie, coltivavano tutte queste cose e c'era questo granaio dove mettevano i sacchi di riso quando li raccoglievano, no? E lo ricordo tutto di cemento e c'era, mio zio mi aveva fatto un'altalena con un asse di legno, delle corde che io vedevo enorme, poi alla fine era molto piccola e poi c'era una porticina che portava dietro al mulino e io andavo in questo posto, nonostante fossi piccola, che poi dopo mi sono chiesta come mai mi ci facevano andare, mia nonna secondo me sapeva che io andavo da mio padre perché non era preoccupata per l'acqua, no? Quando tu hai una bambina così piccola non la lasci andare sola, lei era tranquilla, di conseguenza poi ho capito dopo che lei sapeva che io andavo da mio padre anche se non ne abbiamo mai parlato chiaramente e io aprivo sta porticina di ferro, c'era mio papà su questa passerella di cemento, in fondo seduto di schiena con la sua divisa e c'erano degli arbusti, degli albi, ma io ricordo questo posto in un modo magico, per me era un posto da favola e io andavo lì, giocavo con mio padre, parlavo, lo toccavo, cioè era proprio un incontro fisico e avevo questi incontri con lui quando andavo là, però l'ho sempre avuto in ogni momento, nei momenti più difficili, nei momenti in cui stavo male con mia mamma, nei momenti in cui ero ammalata, nei momenti in cui io avevo bisogno di lui, lui arrivava e tu conosci l'amore totale, perciò quello che hai in questa vita non è mai abbastanza. Allora, quello che tu non vuoi chiamare dono, che cos'è? Cosa vedi? Vedo quello che c'è dall'altra parte, vedo i defunti, comunico con le persone che sono dall'altra parte, non importa se uno non ci crede perché io ho tanta gente che viene da me e non ci crede e poi va via convinta perché non è che io convinco le persone, anzi io dico sempre aspettate il momento giusto, quando siete pronti, quando uno ha bisogno deve sentire, altrimenti forzare le cose non va mai bene. Tu vedi i defunti e vedi gli angeli? Vedo anche gli angeli, sì. Che sono due energie completamente diverse. Assolutamente sì. Un angelo è solo energia, non ha una forma? Allora. Spiegami la differenza. La differenza tra i defunti e gli angeli è sottile, però c'è, i defunti io li vedo fisicamente ma non perché hanno il fisico, sono dell'energia di luce. Però se io ti dico, vedo una luce, tu dici chi è? Cioè è normale che si facciano vedere a livello fisico, no? Per darci dei particolari. L'angelo è un'energia molto più forte. Io sono riuscita a vederli sia come sono in realtà, a volte si fanno vedere con delle sfere di luce, ma è quello che senti che è molto diverso, no? C'è questa forza, l'angelo ha molta più forza. L'angelo è quello a cui tu chiedi. Il mio angelo mi ha detto di sfruttare gli angeli, perché se tu non chiedi, loro non interferiranno mai nella nostra vita. Loro avranno sempre il permesso da noi, perciò qualsiasi cosa io posso chiedere, anche a partire da un parcheggio, loro te lo danno. Io ti faccio delle domande perché... Assolutamente sì. Devo capire io e far capire a chi ci ascolta e a chi ci guarda. Tu hai detto il mio angelo, perché ognuno di noi ha un proprio angelo. Sì. Allora ognuno di noi quando scende sulla terra, quando nasce, ha questa energia che è una protezione che ci viene data da chi esattamente non lo so. Io so che c'è un Dio, ma non l'ho mai visto. Io non l'ho mai visto né la Madonna, né Dio, né Gesù. Io vedo i defunti e vedo gli angeli, ma non so dirti esattamente com'è. Io so che Dio c'è, io ci credo, anche se non sono religiosa o cattolica, però so che c'è questa energia fortissima. E loro ci viene dato proprio un angelo per protezione che se può ci salva. Per esempio se tu hai un incidente e un incidente minimo dove non ti fai del male, non è detto che questo incidente ti arrivi per causarti dei problemi, probabilmente te ne toglie, ti impedisce che possa succedere qualcosa in più. Non so se riesco a spiegarmi. Certo che sì. Perciò se poi quanti genitori sono venuti da me e mi hanno detto perché non mi ha salvato mio figlio? Perché non poteva? Perché noi il giorno predestinato ce l'abbiamo, non lo possiamo cambiare. Se noi abbiamo un tot di tempo da vivere non possiamo allungarlo o anticiparlo. Ma tu riesci a vedere quanto tempo hai da vivere tu personalmente o no? Allora, io l'ho saputo da poco. Io però non lo posso dire. C'è una cosa che mi è stata detta perché io sono pronta. Io non ho paura di andarmene. Perciò lo sappiamo tutti quando veniamo sulla Terra quanto tempo abbiamo da vivere perché l'abbiamo deciso. L'abbiamo deciso prima lo sappiamo. Il percorso di vita lo sappiamo. Poi abbiamo delle libere scelte, il libero arbitrio, però sappiamo tutto. L'anima, non so se ti capita a volte di riconoscere una persona, dire mi sembra di conoscerti da tanto tempo perché l'anima è un archivio di conseguenza a memoria anche di tutte le vite precedenti. Di conseguenza noi sappiamo tutto. Poi giustamente dimentichiamo perché abbiamo un percorso per cui impariamo, non è la vita. È un viaggio in cui dobbiamo imparare, dobbiamo conoscere, dobbiamo migliorarci, dobbiamo evolverci. Io ho lavorato tanti anni nelle case di riposo. Ho avuto le prove che quello che mi avevano detto era vero perché mi è capitato tantissime volte di avere delle persone che mi dicevano guarda vedo mia mamma e dopo mezz'ora se mai se ne andavano, mia mamma mi è venuta a prendere, mio papà mi è venuto a prendere. Perciò l'anima già è pronta per varcare questo gradino, chiamiamolo così e sa già che deve andare. Poi se io sapessi il giorno quando arrivo o quando cresco, quando devo morire, ci crea ansia. Noi esseri umani siamo molto limitati in queste cose. Io lo so, non so esattamente il giorno ma so più o meno quando me ne andrò. Tu dici me l'hanno detto, parli al plurale. Chi te l'ha detto? Loro, di tutti perché poi guarda noi ci riferiamo a una persona quando parliamo di là però sono tante le voci che parlano. Poi queste cose sono più dette dagli angeli e che dai defunti. Perciò è l'angelo che mi dà dei consigli, è l'angelo che mi dà dei messaggi universali che io riferisco sempre perché poi alla fine salta sempre fuori la verità. Quello che ti anticipano, che possono perché non hanno il permesso di dirci tutto, quello che possono anticipare loro te lo anticipano. E io quando ho questi messaggi che mi arrivano soprattutto di notte scritti, con una scrittura molto particolare, io tengo un blocchetto e un abiro sul comodino perché se mi capita di notte poi io non mi ricordo il giorno dopo. Ma scrivi tu in maniera inconscia? Scrivo io in modo inconscio con una scrittura che non è la mia e arrivano questi messaggi universali. Poi al mattino vedo il messaggio, allora io poi lo dico con tutti perché sono messaggi non capibili completamente al momento, però tu riesci a capire tutto dopo. Ti faccio un po' di domande sul proprio angelo. Gli dai un nome al tuo angelo? Gli ho dato un nome, gli ho dato un nome perché noi abbiamo bisogno di dargli un fisico e un nome. Io lo chiamo Ariel e ti spiego anche il perché. Perché una sera io ho tanti gatti, io raccolgo gatti ammalati, randaggi. Quanti ne hai? 28 adesso, ma ne ho avuti di più perché prendendoli ammalati ogni tanto qualcuno se ne va. Perciò guardando su internet pensavo come mai ovunque vada io ho un gatto che mi segue e mi è apparsa questa foto così, non so come perché io col computer sono una schiappa proprio nel vero senso della parola. Mi appare la foto di questa figura angelica femminile con tutti i gatti intorno e c'è il nome di Ariel. E allora l'ho chiamato Ariel, però so che non ha una fisicità. A volte quando mi sveglia di notte che mi deve dire qualcosa, si presenta solo con il viso, senza i contorni. Mi è capitato proprio di vedermelo qua, di prendere anche un po', perché svegliarmi e vedere una figura qua davanti, però è una figura che ti dà tranquillità, non ti dà paura. È il momento in cui ti svegli e mi dà dei messaggi. Mi ha detto una notte, mi ricordo il 27 giugno fu del 2016, perché l'anno che è morta poi mia mamma, mi ha svegliato alle 4 e mi ha detto ti devi preparare. E ho cambiato casa, è morta mia mamma, ne sono successi di tutti i colori. Però mi ha detto ti devi preparare, perciò sapevo che qualcosa cambiava nella mia vita. Non sono mai messaggi brutti Luca, sono sempre messaggi che ti preparano, che ti avvisano che comunque hai l'aiuto indispensabile, perciò anche se quel giorno per dire che ti danno una data, ti succede qualcosa che per noi è spiacevole, non ti avvisano di qualcosa di spiacevole, ti dicono vedrai che lo risolvi, perciò stai tranquilla che ti do quella data lì, anche senza specificare cosa succede, per non farti preoccupare, però c'è la soluzione, cioè non ti porta la rovina, il disastro, ti porta semplicemente a un cambiamento migliore e ti porta a una soluzione. Perciò i messaggi loro sono importantissimi, ascoltare quello che ci indicano, anche se non senti la voce, molto importante. Se non senti la voce come fai a capire quello che ti vuol dire? Con dei segnali, a volte ti impediscono di fare una cosa e noi insistiamo a farla, ti impediscono di stare con una persona e noi insistiamo a voler stare con questa persona, ma alla conclusione ci arriviamo, perché se abbiamo le sensazioni quando non stiamo bene, quando c'è qualcosa che ci crea disagio, è assolutamente importante ascoltare le nostre sensazioni. Non sono le nostre sensazioni, noi siamo umani, siamo limitati. Tutto quello che sentiamo è perché qualcuno ce lo dice, perché qualcuno ce lo trasmette. In conseguenza bisogna ascoltare. Come si comunica con il proprio angelo? Ad alta voce? Ad alta voce. Perché se parli nella tua testa… Puoi parlare anche nella tua testa, però… Perché tutti noi parliamo con qualcuno, a volte parliamo rivolgendoci magari al cielo, al Signore o ai defunti e ai nostri cari chiedendo aiuto, no? Sì. Invece in questo caso tu dici ti puoi rivolgere al tuo angelo custode, perché lo si chiama così, giusto? Sì, sì. Gli devi parlare ad alta voce? Ma io consiglio di parlare ad alta voce perché abbiamo delle vibrazioni particolari nella voce, no? Cioè abbiamo più forza, aiuta noi. Non è che loro non sentono se noi gli parliamo mentalmente. Noi sentiamo di più se gli parliamo ad alta voce, se comunichiamo. Io nonostante non abbia problemi a vederli o sentirli, io al mattino mi preparo due tassine di caffè, bevo il caffè con loro e qualche segnale c'è sempre. Poi lo bevo io, naturalmente, no? Perché non è che arrivano lì e bevono il caffè. Però è un modo di comunicare, di parlare, di tenere questo contatto comunque legato. Vanno ringraziati gli angeli? Sempre. È la preghiera più grande. Io quando chiedo qualcosa, io chiedo poco e ti dico la verità. Ho imparato ad andare avanti così, so che quando mi devono dire qualcosa me lo dicono, però a volte chiedo anche per gli altri, no? Per qualcun altro che ha bisogno. Sempre ringrazio e poi dico so che lo fai, so che mi aiuti, con la certezza che l'aiuto arriva. Poi a volte noi non capiamo l'aiuto perché le cose non vanno come noi vogliamo farle andare, ma se non vanno vuol dire che non devono andare così. Accogliere, accettare e ringraziare sempre. Poi io parlo in qualsiasi modo, a volte dicono sprontolo, cioè per dire è come se avessi proprio una persona, un'amica, un amico fisico lì vicina, parlo come parlo normalmente tutti i giorni, perché è importante parlare con l'animo, col cuore. Quando tu fondamentalmente, mi hai detto prima, dicono che vanno sfruttati gli angeli, perché chiedi poco? Perché non ho bisogno di chiedere, perché per me la giornata, io mi alzo al mattino che sono felice di avere la giornata davanti e fare tante cose. Io dormo pochissimo, ma non vedo l'ora che arrivi il giorno dopo, per fare tanto. Mi hanno aiutato a arrivare, non ero così a vent'anni, ero arrabbiatissima io col mondo, con la vita, però mi hanno aiutato proprio ad avere questo atteggiamento. Riprendiamo il racconto della tua vita, ma prima ti faccio una domanda. Tua nonna, che ti permetteva di andare in un luogo che per una ragazza di pochissimi anni era estremamente pericoloso, credi che avesse i tuoi stessi… Mi dici come posso definire quello che tu hai, se non vuoi chiamarlo dono? Chiamiamolo dono, però ti ho voluto spiegare che c'è molta sofferenza dietro a questo dono, hai capito? Certamente. In questo senso, per quello che non lo chiamo dono. Poi ti dico una cosa che mi è stata data, e ringrazio per averla, perché mi ha cambiato tanto. No, non credo che ce l'avesse, però mia nonna aveva una fede enorme nei confronti di Dio, era proprio buona, era la classica persona buona, cioè io ho solo letto bontà nei suoi occhi, non si è mai lamentata. Ha accettato la morte di mio padre e dopo nove mesi è morto il marito, è morto mio nonno che ha avuto un infarto. Ma lei non l'ha mai vista lamentarsi, piangeva, ogni tanto gli vedevi delle lacrime che scendevano, ma non l'ho mai vista disperata, non l'ho mai vista lamentarsi. Tutti i giorni andava a piedi al cimitero, però aveva le foto di mio padre, di mio nonno, ma io l'ho sempre vista serena, con il dolore ma serena, perciò penso che sapesse che mio padre era lì, però non credo che avesse il mio dono, nessuno nella mia famiglia ce l'ha. Ti farò altre domande su questo, perché so che tu conosci altre persone che hanno il tuo stesso dono, comunque un dono molto simile, lei è conosciuta in delle conferenze, però ritorniamo al racconto, quindi eri piccolina, andavi a giocare con tuo padre, nel modo in cui ce l'hai raccontato prima, e poi come cresci, che succede dopo? Allora cresco nella famiglia con queste tre donne che amavo, perché naturalmente avevo questo affetto comunque morboso, comincio ad andare a scuola e ho delle difficoltà anche a scuola, perché non è che avevo difficoltà con le persone che mi trattavano male, perché a volte dicono ti consideravano pazza, no, io non ho mai avuto questo problema. Ma perché tu lo dicevi che vedevi queste cose? Io non l'ho mai nascosto, non è che lo dicevo, però non l'ho mai nascosto niente, non ti so spiegare esattamente come ha funzionato, per me era una cosa talmente naturale che sì, se vedevo mio padre parlavo con lui senza nascondermi col fatto che parlassi con lui, perciò sai uno ti vede parlare con il nulla, poi alla fine capivano tutti che avevo qualcosa di particolare, ma non mi sono mai sentita accusare o puntare il dito contro, penso che di essere stata molto protetta, perché altrimenti un essere umano ti colpevolizza su qualsiasi cosa. Invece io non ho mai avuto queste cose, l'unica cosa, avevo difficoltà a confrontarmi con gli altri, a vivere con gli altri, proprio perché per me l'amore era un'altra cosa, qui era la difficoltà, a scuola non ero trattata bene perché ero la bambina povera che viveva con le tre donne, che la maestra non mi trattava bene e io nei momenti in cui mi umiliava insieme ai miei alunni e mi metteva in un angolo, in quel momento io se stavo lì mezz'ora, quella mezz'ora lì non la vivevo, mio padre arrivava, mi prendeva per mano, mi portava in giro e mi portava nel suo mondo, perciò era come se, anche se mi ritrovavo che piangevo nell'angolo, però io il dolore di quella mezz'ora non lo sentivo, sono cose molto strane da spiegare, che le ho provate però molto bene. Ma per fare questo viaggio con tuo padre in quella mezz'ora dovevi chiudere gli occhi o lo facevi ad occhi aperti? No, occhi aperti, non è che dovevo mettermi lì perché lui arrivava, mi prendeva per mano e probabilmente con l'anima, forse c'era una congiunzione con l'anima, non lo so, non te lo so spiegare, perciò tutto il dolore terreno per me era amplificato a livello umano ma era molto più leggero perché lui mi salvava da queste violenze, da queste situazioni. Quindi a scuola diciamo che non è stata facile? No, per niente è stata difficilissima. Da che età questo? Fino alla quinta elementare, poi dopo in prima media è stato diverso, già capivo molto di più quello che vedevo perché quando ero piccola la differenza, forse era meglio anche quando ero piccola perché tu vivi la cosa come una cosa naturale, poi quando diventi grande cominci a chiederti come mai tu vedi e gli altri non vedono, anche se non è mai stato un problema. Poi alle medie io mi sono trasferita con mia madre, è andata ad abitare da un'altra parte, si è risposata, poi si è separata, poi si è rimessa con un ragazzo più giovane di lei di cui io ero innamorata perché io ero ragazzina, avevo 9-10 anni ma lui aveva 18 anni, perciò molto più giovane che mia mamma. E mia mamma ne aveva 34, avevano 16 anni di differenza. Quindi lei si fidanza con un ragazzo? Cioè lei era sposata, ci siamo trasferite. Quindi lei si è risposata? Si è risposata, è stata sposata due anni, in questi due anni ha conosciuto questo ragazzo in cui si è messi insieme a questo ragazzo, abbiamo ricambiato casa perché siamo andati in un altro paese, però io ero innamorata di questo ragazzo, era la prima cotta della ragazzina da 10 anni. Lì ho deciso di venire via da casa, ho cominciato a lavorare prestissimo appena ho finito le medie. Cioè aspetta, tu ti sei innamorata di questo ragazzo che avevi 8-9 anni e andavi a 10 anni, quindi andavi in quinta elementare? Sì, sì. Ok, come facevi a capire che ti eri innamorata di lui? Perché mi piaceva, perché sono le prime cotte. Però io non sapevo ancora che avevo una relazione con mia madre, perché mia madre era ancora sposata. Ma lo vedevi in casa, quindi pensavi fosse un amico? Capivo che c'era qualcos'altro, però non ne avevo la certezza. Quando me l'ha detto per me è stata una ferita, però non ho detto niente, io non ho mai detto niente con mia madre di quello che provavo. Ha rovinato un po' il rapporto con tua madre questa cosa? Da parte mia no, da parte sua l'ha allontanata ancora di più, perché comunque avevo questo interesse molto forte. Da parte mia no, non ho mai provato odio o invidia o ero contenta per lei. Perciò ho cercato di tenere per me questa cosa e poi si è separata dal suo marito. Ci siamo trasferiti in un paese vicino a Finale. Lei ha cominciato a frequentare questo ragazzo, poi lui intanto ha fatto il militare. Da lì è cominciato un calvario ancora più grande, perché lei frequentava gente, lei ha cominciato a bere, frequentava gente che beveva. Praticamente quando Fabrizio, questo ragazzo si chiama Fabrizio, è andato a militare, lei frequentava un suo cugino della sua istà, non so se aveva una cinquantina d'anni, forse se non ricordo bene, che era un alcolizzato anche lui. Perciò se usciva la sera, lei mi prendeva sempre dietro in modo da tutelarsi, come se uscendo con la figlia non facesse niente di male. Mi spiego bene. E' solo che questo faceva finta di essere amico con mia madre per poi usarmi, per venire con me, per usare violenza su di me. Perciò a volte mi chiamava, c'era un bar. Avevi dieci anni? No, lì ne avevo tredici. Avevo già finito le medie e lavoravo in una sartoria. Avevi smesso di andare a scuola? 12 e 13 anni, ne ho finito la terza media, sì. Dopo la terza media hai smesso? Sì, sì, ho smesso, perché non avevamo la possibilità, eravamo povere, non mi ha mai fatto studiare, io andavo a lavorare. Lavoravo in una sartoria. Quindi tua madre usciva, ti portava con sé? Sì. E questo signore di cinquant'anni? Mi stava addosso, mi continuava anche fuori a abbracciare così. Poi quando io ho smesso e sono venuta via da casa, un giorno che lui si chiamava Vittorio, mi ha chiamato in questa, c'era una discoteca, chiamiamola così, di una sala da ballo con un bar, mi ha fatto chiamare dal titolare del bar, è venuta a casa e ha detto guarda che c'è Vittorio che ha bisogno della Susi, mi ha fatto andare là, mi ha fatto andare nella cantina, aveva comprato, me lo ricordo perfettamente, un vestito di jeans e pelle con i sandali uguali e la borsa uguale. Io non avevo niente perché non mi compravo vestiti, non avevo niente e lui mi aveva regalato questa cosa, i duetti di prosciutto crudo, me lo ricordo perfettamente e poi lì ha tentato di saltarmi addosso, di baciarmi, di abbracciarmi, io mi bloccavo in questa situazione, non riuscivo a reagire, era come se qualcuno mi bloccasse, mi veniva da piangere. Era la prima volta che succedeva? No, non era la prima volta, era successo con delle altre persone, però quella volta lì me la ricordo molto bene perché lui è caduto, mio padre è arrivato, l'ha spinto via, lui è caduto, perciò lì mi sono resa conto, è stata forse la prima volta che mi sono resa conto che mio padre mi salvava anche in quelle situazioni perché è proprio caduto, l'ho sentito proprio spingere via, ho visto mio papà, l'ha spinto via, io sono scappata via, sono arrivata a casa, io guarda Luca non ho mai capito se mia madre sapesse di tutto questo e mi sfruttasse, in quel senso lì per avere aiuto anche a livello di soldi o di cibo, non lo so, non l'ho mai capito, forse non ho mai voluto forse saperlo, non lo so, perché lei diceva fai la carina, perché lui è bravo con noi, io da mamma, che sono mamma anch'io, se mio figlio avesse avvissuto una situazione del genere non l'avrei mai permesso, l'avrei capito immediatamente, io non so se gli faceva comodo o se non l'ha capito, non lo so, preferisco. Ma quando tu glielo andavi a riferire lei non ti credeva? Io non glielo ho detta questa cosa, io sono arrivata a casa piangendo e mi ha detto ma cosa è successo? Niente, gli ho detto sono venuta via, poi lui ha mandato la roba a casa, lei non mi ha chiesto spiegazioni, hai capito? Lui ha mandato da questo ragazzo qui che lavorava al bar il pacco con i vestiti e i sandali e io gli ho detto non li voglio, lei ha detto ma guarda che fai la carina perché guarda che ci ha regalato due eti di prosciutto, cioè io lì ho detto ma capisce o non capisce, ma io non gli ho mai detto niente, non gli ho mai riferito queste cose, per me doveva capirle, lei non aveva riguardo perché quando c'era questo ragazzo che dormiva lì io ho dovuto uscire di casa perché era tutto molto alla luce del sole per loro e io soffrivo di questa cosa, sono andata a vivere a finale da una sorella di mia nonna dove avevo abitato. Ma sei andata a vivere lì perché tua mamma l'ha voluto o perché tu non volevi più? Io l'ho voluto, no io non ho più voluto star lì. Perché eri innamorata di questa persona e soffrivo? E stavo male. O per tutto quello che gli stai raccontando in questo momento? Per tutto, per tutto, per tutto un insieme di cose, anche per questo ragazzo. Infatti poi ho parlato con mia nonna, ho detto voglio venire a abitare con te ancora, avevo trovato un lavoro a finale miglia in maglieria, perciò lavoravo e tutto, avevo 13-14 anni, ero proprio appena finita dalle scuole e mia nonna non mi ha voluto in casa, perciò sono andata a abitare con questa sorella di mia nonna. Che si chiama? Stella, alcolizzata e il marito era stato operato alla gola di tracheo, 70 anni aveva. Mi hanno accolto in casa, io lavoravo e tutto, solo che lui tutte le sere era in camera mia, perciò avevo quel problema lì, che continuava ad avere questa persona che mi leggeva il diario, mi controllava le butandine, se io non avevo rapporti perché ero ragazzina, proprio non è che avessi, il ragazzo l'ho trovato a 16 anni, però mi controllava tutte queste cose, mi aspettavo quando arrivavo a casa che andavo fuori a ballare con le mie amiche così ed ero sempre controllata e sempre lui addosso che mi abbracciava, che mi toccava e non sapevo com'è fare, avevo questo blocco. Poi il culmine non ci è mai arrivato, però è una violenza molto forte anche quella. Tu mi stai raccontando questa, mi hai raccontato la precedente, mi hai detto che è successo altre volte ancora prima, come mai? Lo so, lo so perché c'era nella via dove abitavo c'era questo signor anziano che quando io andavo a prendere qualcosa in negozio da mia mamma, lui mi aspettava al buio, d'inverno c'era buio e anche lì mia mamma non ha fatto niente, io quella sera lì, è successo un paio di sere, sono arrivata in casa piangendo, non riuscivo neanche a parlare perché avevo 11 anni quella prima volta e lei non ha fatto niente, cioè non lo so il perché, non me lo so spiegare questa cosa, però non faceva niente, forse per la gente, per quello che è. Ma come mai attraevi persone così malate mentalmente? Non lo so, non ne ho idea, forse perché ero comunque una bambina indipendente, ero da sola, ero molto libera anche perché a mia mamma davo fastidio, di conseguenza facevo un po' tutte le cose da sola, io andavo molto spesso a casa dalla sorella di mia mamma anche se lì ogni tanto mi mandavano via, non lo so perché ho avuto questo percorso, sinceramente non me lo spiego, perché ero comunque una bambina molto tranquilla, pudica in alcune cose, ero molto bella, era una bambina molto bella, avevo sempre tutte queste persone che comunque frequentava mia mamma, questo signor anziano no, perché non c'entrava niente, abitava nella via, però mi aveva toccato, ero scappata su, anche lì lei non ha fatto niente. Era sempre tutto però circoscritto all'ambiente dell'alcol, vero? Sì, sì. Quindi vai da Stella, succede questa cosa che ha raccontato con suo marito di 70 anni, e? Te ne vai? No, sono rimasta lì un paio d'anni, sono rimasta lì due anni. E non ne hai mai fatto parola con nessuno di quello che stava accadendo con lui? No, no, ne ho fatto parola dopo un anno e mezzo. Non ne hai mai denunciato, non ne hai mai minacciato lui di denunciarlo? Ci ho provato dopo, ci ho provato. Ci hai provato a fare cosa? A dirlo, a dire, a raccontare questa cosa, perché una sera sono scappata via perché lui mi ha proprio coricato, cioè Aveva esagerato? Aveva esagerato, esagerava anche prima perché non c'è mai un limite in quelle cose lì, e lì non ce l'ho più fatta, sono scappata via in camicia una notte, sono andata a casa dalla sorella di mia mamma, la mia zia Olga, e ho raccontato il fatto che erano le 10 e mezza, 11 di sera. E tu sei andata dalla tua zia Olga per dormire? Mi era da lei? No, per dirgli quello che era successo, che non ci volevo più stare. E come ha reagito? Cosa ha fatto? Non ha voluto che rimanessi lì. Ma ti ha creduta? Mi ha creduta, ha parlato con mia nonna perché mi prendesse in casa ancora, perché mia besnonna se n'era andata da poco, e allora lì mia nonna mi ha preso, però da lì è partito un rapporto tutto sbagliato Luca, perché mia nonna non mi voleva, perciò io il fatto di andare in casa con mia nonna che non mi voleva, nonostante avessimo vissuto tanti anni insieme, ce l'avevo con lei, perciò io ero sempre amostosa, l'avrei potuta circuire come volevo, però non ce la facevo, perché mi vuoi bene, in più mi avevano detto di tacere, che la gente non doveva sapere di questa cosa, perché non volevano tra virgolette scandali, hai capito? E allora sono stata zitta, era tutto un fare di nascosto, io ero quella che non aveva bisogno di attenzioni o di protezione, cioè ero quella che doveva subire, e gli altri facevano tutto bene, perciò ero quella che doveva tacere, non potevo dire niente. Lui mi mandava i regali a casa, li volevo mandare indietro, quando abitavo con mia nonna, poi sono andata a abitare con lei. Lui chi, il marito di Stella? Il marito di lei, sì, Amedeo si chiamava. Amedeo. Mi mandava i regali a casa per i compleanni, io non li volevo e mia nonna mi diceva no, li devi prendere, perché altrimenti la gente cosa dice, no? Finché un giorno mi sono sentita dire che io i regali li accettavo e mi facevano comodo, ho fatto una piazzata, mi sono messo in cortile e ho urlato a tutti che quello che aveva fatto, che loro erano con le mani nei capelli, perché diceva questa qui parla, dice tutto. A che età hai avuto questo sfogo? 15 anni, mi sono messa proprio a urlare nel cortile e a dire tutto quello che era successo, perché ho detto non mi puoi accusare che io li ricevo quando non li volevo, perché non volevo più avere niente a che fare, perciò è stata dura in tutti i sensi, perché non mi sono mai sentita protetta, non mi hanno mai protetta, perciò c'era questa differenza, che mio padre mi proteggeva in ogni modo, invece loro, l'essere umano mi faceva solo del male, non valevo niente. E da quell'età in poi, che succede? Quell'età in poi, poi dopo sono stata fino a 17 anni con mia nonna, abitare con lei con delle litigate assurde, mi chiudero fuori casa. Non ci sono più abusi, nel senso da quel punto di vista sei protetta o succedono ancora altre cose? No, ho avuto degli abusi da dei medici, quando andavo dal male, ho avuto dei problemi di salute molto pesanti. Che tipo di problemi? Ho avuto 16 interventi, i polmoni all'intestino, avevo il morbo di crono non c'è più niente, sono guarita. Ho avuto interventi all'intestino, i primi a 15 anni che mi hanno tolto un'ovaia, ho mezzo polmone, perciò continuavo a fare dei problemi toraci, ho una distrofia bollosa, perciò ho avuto tutti questi interventi. Nelle visite ho avuto degli abusi da dei medici, due medici. Uno a 12 anni avevo, che abitavo a Scortichino, sì andavo alle medie a Scortichino, e questo medico chiudeva la porta e mi faceva coricare sul lettino, poi cercava di fare qualcosa, no? Anche lì non sono più andata, non l'ho mai detto neanche quello con mia madre, abitavo allora con mia madre vicino a Scortichino. Non gli ho mai detto niente, ho sempre avuto timore di dire quello che mi facevano. A che età hai avuto il tuo primo rapporto sessuale? A 16 anni, con mio marito. Consensiente, nel senso che tu lo volevi, lo desideravi? Sì, sì. Non avevi paura dell'uomo? Molta, infatti ero vestita completamente quando mi ricordo, abbiamo anche riso perché io addirittura d'estate, è stato per l'8 luglio, io compio gli anni 4-8 luglio, ho compiuto i 16 anni, siamo stati insieme e avevo le calze per i collanti, perciò figurati, mi proteggevo in quel senso lì, però ero innamorata, poi amavo molto i suoi genitori, io mi ero legata molto a mia suocera e mio suocero, perciò mi sentivo, ma anche lì è stato un errore perché poi violenza anche in quel senso lì, lui era molto libertino, un carattere molto particolare, sono rimasta poi incinta a 19 anni, siamo stati fidanzati un po', poi sono rimasta incinta, non volevo sposarmi perché sapevo che lui aveva altre e poi era manesco, perciò era anche lì, ma aveva dei problemi di alcol? No, era così di carattere, era di natura così, abitavate insieme? Abitavamo insieme, sono sposata, a vent'anni ho avuto mio figlio, siamo sposati a febbraio che io ero già in 5-6 mesi, poi siamo andati a abitare vicino a mia suocera, ma io ero molto, la mia famiglia li amavo molto, i miei suoceri li ho proprio amati tanto, erano i miei genitori, io andavo in ferie, andavo a casa da loro, hai capito? I miei ferie erano con loro, avevo trovato finalmente una famiglia unita, c'era lui che era un problema, poi ho detto il bambino, vabbè cambierà, sai quando pensi cambieranno le cose, poi invece no, poi mi sono dovuta separare, però mi sono tenuta mio figlio. A che età ti sei separato? 26 anni, ci siamo trasferiti qua. Sono stati anni difficili? Molto difficili, molto perché lui mi tradiva apertamente, lui doveva andare con una, davanti a me ci andava, io dovevo stare zitta, ho sempre avuto questa cosa di essere messa in disparte, forse il mio destino, forse mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato da marmi. Ma perché sei insicura? Perché come mai l'uomo ti tratta in quel modo? Non lo so. Non l'hai mai analizzato, non l'hai mai chiesto al tuo angelo? No, perché ho sempre preso le cose e dovevo imparare, per me è stata una conoscenza, un capire, perché mi sono sempre cercata, io ho avuto due matrimoni e una convivenza, ma tutte delle persone particolari in cui io ho dovuto subire, perché il secondo marito è stato un tossicodipendente, la mia convivenza, una brevissima persona, però anche lui che tradiva, che andava, che non lo so il perché, poi ho deciso di stare da sola e sto da Dio. A che età l'hai deciso? Ho 40 anni. Quindi fino a 26 con il primo marito? Primo marito, poi dopo ho incontrato questo… Tu lavoravi nel frattempo? Io ho sempre lavorato, ho sempre fatto la loss, ho avuto dei bar, ho sempre fatto due o tre lavori, perché il figlio me lo sono tirato su io da sola, me lo sono mantenuta io, perciò non avevo aiuto in quel senso, lì mi sono messa insieme a Raimondo, che è stato il mio convivente per quasi cinque anni, era ricchissimo, bellissimo, però non c'era un po' questo… non c'era dialogo, io avevo bisogno di una persona con cui parlare, con cui essere amica molto, oltre che ad essere la donna. Mi sono stancato, forse sono io che sono sbagliata, non sbagliata, ma nel senso che ho bisogno di libertà, ho bisogno di stare da sola, penso che alla fine mi abbiano voluto far capire questo, che io devo essere sola, sola proprio, essere libera di fare quello che voglio, uno spirito libero. Poi ho incontrato, chiuso con lui, ho incontrato un ragazzo più giovane di me, tossicodipendente, perciò è stato un calvario. A che età questo? Questo, dunque, mi sono separata da Raimondo, che avevo 34 anni, siamo stati insieme poi con il Manuel, 4 anni, poi l'ho lasciato perché non ce la facevo più, perché era una vita troppo pesante, poi avevo il bambino anche con me, perciò c'era anche il riguardo nei confronti di mio figlio. Poi Andrea è stato con me fino a 20 anni, poi è nato giù a Finale Miglia a lavorare, è andato a scuola, ha studiato alla Dams, pianoforte, canto, lui canta molto bene, adesso non canta più, ma cantava molto bene, perciò aveva fatto questa scuola. Quando lui è andato ad abitare a Finale, io ho rincontrato il Manuel perché l'avevo lasciato, mi ha ricercato, io ero molto innamorata di questo ragazzo, gli volevo proprio bene. Ci siamo sposati, ho voluto sposarlo, convinta che stesse uscendo da questa storia, convinta che potesse lasciare andare il suo passato e l'ho voluto sposare. Dopo tre mesi l'ho buttato fuori perché ho detto non ce la posso fare, perché non ne veniva fuori, andava al CERT, si curava e tutto, però era proprio a dei livelli esagerati e allora da lì poi sono sempre rimasta sola. Raccontami la vita che si conduce con una persona che è tossicodipendente, cosa vuol dire una vita di inferno in quei mesi? Fammi un esempio. Perché è evitare la verità a tutti i livelli, perciò io mi accorgevo di quello che facevo, lui negava, poi di notte non si dormiva perché aveva queste visioni, continuava a scappare per andare a comprarsi la cocaina, lui si faceva di cocaina, aveva avuto anche un percorso di eroina, di alcol, perciò tutte le mattine andare al CERT con lui, tutte le settimane dalla psicologa e poi era un tu dire la verità e lui dire tutto il contrario. Arrivavo a casa che io in quel periodo ero andata a lavorare in campagna, lavoravo, piantavo il pomodoro, io ho fatto di tutto sempre. Arrivavo a casa, c'era tutta la casa con delle robe fuori, dovevo rimettere a posto tutto, ero stanca, poi lui era molto fuori di testa, gli aveva proprio preso il cervello, perciò non era più la stessa persona. Era una persona lucida. Vabbè, rapporti sessuali non parliamo né perché non ce n'erano, però a me io gli volevo proprio bene. Poi ho sempre avuto questa cosa di dover salvare le persone, che non le salvi Luca, una persona si deve salvare da sola, tu non puoi fare niente. Perciò poi una sera a settembre, noi ci siamo sposati il 12 luglio, il giorno del compleanno di mio papà, e a settembre una sera è arrivato a casa, mi ha preso per il collo, mi ha spaccato il labbro, ho detto, il giorno dopo aveva la roba fuori casa, ho detto basta, ce la faccio più, anche perché correre indietro spendeva molti soldi, io lavoravo, spendeva soldi. I tuoi o lavorava lui? Anche i miei, no, lui aveva praticamente, gli era morto un fratello negli anni precedenti, io l'ho conosciuto in quel modo lì perché era venuto a sentire suo fratello, e in un incidente stradale aveva ricevuto 500 milioni per l'incidente di suo fratello. Del vecchio conio. Sua madre glieli aveva lasciati, di conseguenza, non ti dico, no? Cioè sempre sul pulito perché non si è mai ammalato, ma ha fatto fuori tramacchine, moto, incidenti, cioè era di tutto e di più. Però era una persona molto buona, perché io penso che queste persone abbiano comunque una visione diversa della vita, ma che abbiano un'anima molto buona, perciò l'ho sempre considerato così. Parlami di tuo figlio, nel senso ha avuto un'infanzia, l'ha vissuta in modo sereno o è stata travagliata per lui? Allora, ti dico l'impressione di mamma, quello che è, perché io ho sempre cercato di parlargli tanto. Avete un bel rapporto? Sì, adesso ultimamente ci vediamo poco perché ha una famiglia e tutto. Lui ha 40 anni adesso. 40 anni adesso. Siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre insegnato di guidare, andavamo fuori insieme, ho cercato di essere anche severa in alcuni momenti, forse molto di più, perché avevo paura che gli succedesse qualcosa, avevo sempre il terrore che gli succedesse qualcosa, anche perché quando sentivo le cose succedevano, di conseguenza quando le senti e le vedi su qualcuno che ami, l'ansia di mamma c'è, perciò l'ho sempre avuta. Però penso che abbia avuto una buona infanzia, anche perché mi ha sempre parlato molto, abbiamo avuto sempre confidenza, abbiamo sempre fatto le cose insieme, perciò penso che sicuramente vedendomi non stabile, perché poi alla fine con una persona non andavo bene, con l'altra non andavo bene, io ho sempre cercato di qualcuno per poter creargli una famiglia, cioè il senso della famiglia l'ho sempre avuta e non ho mai capito il vero senso della famiglia, l'ho capito dopo, che la famiglia è quando tu stai bene, la famiglia è anche con i miei gatti, la famiglia è quando hai qualcuno che quando hai bisogno, c'è, la mia famiglia è con loro, perché loro sentono quando io ho bisogno di loro, quando io ho la famiglia che ti crei, se sei fortunato, se sei scegliere bene, perché poi alla fine le responsabilità sono sempre le mie, e non sono degli altri, mi sono sempre presa le mie responsabilità, però ho sempre cercato di fare quello che mi insegnava la società nel modo più corretto possibile, e ho sempre sbagliato, dal momento in cui ho detto no, cerco di stare bene, di fare quello che mi sento, ma io mi sono divertita tanto, ci siamo divertiti tanto, abbiamo sempre avuto confidenza, penso che l'infanzia non l'abbia vissuta male, anche perché è un bravissimo ragazzo, è un ragazzo felice, Ha una sua famiglia? Ha una sua famiglia, sì, un bambino di città anni, Stabile, una sola moglie, un solo matrimonio? Anzi, lui è molto più al contrario di me, cioè è guai chi fare una cosa, fare un tra di me, lui è proprio preciso e perfetto in quel senso lì, io non sono così, non ho regole, perciò tante cose me le sono anche cercate, perché io ho sempre cercato di vivere le emozioni, ho sempre cercato l'amore che avevo dall'altra parte, e qui non lo puoi trovare, è per quello che ho deciso di stare da sola, perché non esiste l'amore come io lo considero, come lo vedo io, il rispetto non esiste sulla terra, perciò io ho tante persone che mi vogliono bene, voglio bene tante persone, ho la compagnia, ho gli amici, ma io l'amore che ho da loro non lo potrò mai avere da qualcun altro, perciò io sono contenta così. Da quanto tempo hai deciso di stare sola da quel punto di vista? Dall'ultimo matrimonio, da quando mi sono separata da Manuel, quindi ti ho avuto? 40 anni, sono 20 anni, 20 anni, ma sto bene. Tuo figlio ha sempre saputo dei tuoi doni, giusto? Mi hai mai detto cose che vedevi intorno a lui? Sì. Lui come la prende? Ma lui l'ha sempre presa bene, da piccolino aveva anche lui, sentiva molto, c'era molta energia anche nella sua camera, si muovevano gli oggetti, poi crescendo l'ha persa un po' questa cosa, l'ha persa, anche perché la materialità secondo me si stacca, poi se non è la tua strada, credo che sia molto difficile avere una mamma come me, perché la vita ti porta comunque a seguire la corrente, a seguire le regole delle persone, e io invece ho completamente una vita diversa, sono quella che sta con i gatti, sono quella che non si veste firmata, metto la roba degli altri, non mi interessano i soldi, non mi interessa il materiale, ho sempre avuto dei gran casini, perché non ci ho mai fatto caso, per me quello che era mio, ero degli altri, non ho mai dato importanza al materiale, invece un minimo di regola ci vuole, ho dovuto imparare anche questo, però sono quella che è vera, se ho una cosa che mi ha fastidio, si vede, e lui questa cosa me la rimprovera, però io non sono capace di fingere, io voglio stare bene Luca, voglio stare con le persone con cui sto bene, che mi rispettano, che accettano quella che sono, penso di essere comunque una brava persona, perché faccio del bene agli animali, alle persone, perciò di sofferenza ne ho già avuta abbastanza, non voglio più soffrire, anche se non sparirà mai la sofferenza nell'essere umano, io sono una persona molto sensibile, però penso che sia difficile accettarmi, anche per lui. Non lavori più da quanto tempo? Dal 2014. E di cosa vivi? Ho smesso di lavorare con una pensione, perché i miei compagni sono morti tutti, perciò dall'ultimo che ero solo separata, ho una pensione di 500 euro. Con cui ti paghi l'affitto di dove vivi? Sì, beh vabbè scrivo libri, con la vendita dei libri, chi viene da me mi fa un'offerta, perché io non chiedo soldi. Infatti ti faccio questa domanda, perché ti parlavo di Silvana, in generale l'approccio è sempre che nessuno vuole essere pagato, ma a un certo punto, nel senso Silvana diceva che servivano a volte dei soldi per comprare del materiale, delle candele, delle cose particolari, adesso non lo ricordo, ma non ti chiedeva mai denaro per questo, era quasi più un'offerta, ma non era esattamente questo. Quindi tu oggi, quando aiuti le persone, non chiedi di essere pagata, ma loro ti fanno un'offerta e tu l'accetti, un tempo non lo accettavi? Come funziona? Io non l'accettavo, quando lavoravo, che avevo lo stipendio, non lo accettavo, non volevo proprio niente. Non è vero che molti lo fanno per soldi, purtroppo molti lo fanno per soldi. Non ne ho mai conosciuto io, ma perché ne ho conosciuto pochissimo. Purtroppo è così, purtroppo molti mettono delle cifre. Perché tu dici che, quando ero piccolo, non so se me l'hanno mai detto esplicitamente, o lo pensavo io, era come se facendoti pagare perdevi quel dono, no? È vero? Secondo me sì, io la vedo come te, molti non la vedono così. Il mio non è un giudizio, era solo scoprire. No, 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 ma io la vedo come te, infatti anche quando mi fanno le offerte non mi piace, perché dico se potessi li rifiuterei, però in realtà loro mi hanno poi, io ho sempre ascoltato quello che mi diceva, nel 2014 io lavoravo in una casa famiglia, a febbraio avevo ricevuto un messaggio dal mio Ariel, mi aveva detto a luglio la tua vita cambierà in modo positivo, mi avevo svegliato di notte come sempre, ho detto vabbè, vediamo cosa cambia. Io a fine giugno dovevo avere il contratto a tempo indeterminato in questa casa famiglia, perché facevo le notti, io ho sempre fatto molte notti per poi di giorno fare i contatti o fare un altro lavoro, perciò sostituivo nell'istituto grande dove c'erano 50 ospiti e facevo le notti nella casa famiglia dove c'erano 5-6 ospiti. e il 27 giugno mi arriva la lettera di licenziamento invece del contratto a tempo indeterminato, avevano licenziato tutti perché avevano cambiato, era entrata una cooperativa, aveva venduto senza dirci niente la proprietaria. Ok. Però io non mi sono preoccupata perché ho detto, mi hanno detto che a luglio la mia vita cambierà in modo positivo, io le prendo così le cose adesso non ha e nel 2014 questo è successo. Poi ero lì che giravo con i miei gatti col telefonino, io giro molto col telefonino in tasca perché se c'è una qualcosa un fotografo perché loro appaiono molto anche davanti a te o in cielo vedo questo cuore nel cielo, fotografo questo cuore, guardo la foto c'è il numero 5 ma io avevo visto un cuore ero sicura di aver visto però nella foto c'è il numero 5 che io poi ho postato anche sul libro perché si vede chiaramente. Poi mio papà mi dice vai in casa e scrivi e in un mese ho scritto il libro, il primo libro che è il titolo mi era stato dato dalla Laura Paradiso ti parlo di avevo 30 anni perciò 30 anni fa ad un convegno a Modena che tramite un sogno c'ero arrivata insomma ero andata lì ed è Ali d'Angelo sul mio cammino perciò me l'aveva detta lei questa frase vado in casa scrivo il libro ad agosto muore il mio secondo marito perché poi avevo tentato di andare a fare anche delle pulizie ma mi sono fatta male perciò ho detto no mi devo fermare non devo fare più niente aspetto a settembre io avevo la pensione non me l'aspettavo perché non pensavo minimamente alla pensione e poi in un mese l'Inps non ti manda la pensione Luca è impossibile sappiamo benissimo come funziona allora ho detto è la via giusta con tanti sacrifici perché senza stipendio pagare l'affitto pagare le spese però ero sempre io ho vissuto senza luce senza gas senza mangiare perché mi sono successi di ogni però lì avevo sempre l'aiuto per dire stavo una settimana se mai senza luce poi avevo qualcuno che mi aiutava poi gliele ridavo cioè si incastrava tutto anche se con dei grossi sacrifici però era tutto molto veloce perciò ho detto sono nella via giusta da lì hanno cominciato a darmi delle offerte perché prima neanche nessuno anche adesso qualcuno non mi dà niente però non me ne frega niente perché quando ho il minimo indispensabile e poi ho delle persone che mi aiutano tanto cioè perché c'è la persona che può mi lascia anche per dire 50 euro io spendo tutto per i gatti cioè perché io avendo dei gatti ammalati che hanno bisogno di medicine di cibo io quello che prendo lo faccio per gli animali non mi interessa però vado avanti ecco cioè non ho bisogno di grandi cose a parte le sigarette che quelle non me le toglie nessuno però perciò ho accettato quello che mi hanno indicato perché so che è stato un momento è una via che mi hanno comunque indicato loro perciò dico va bene così non mi sento più in colpa a prendere le offerte dico no è giusto perché ne ho bisogno per gli animali altrimenti non potrei salvare tutti questi animali quando hai fatto la preintervista con i miei autori ad un certo punto al mio autore Giovanni gli hai detto di aver visto di vedere in quel momento una figura di fianco a lui e l'hai sorpreso perché gli hai dato una descrizione tale che lui ha capito subito a chi tu facevi riferimento tu vedi questa cosa intorno a chiunque incroci in mezzo alla strada sì di solito sì poi ho dei momenti che non perché non ti vedo mai girare lo sguardo da altre parti da quando noi siamo seduti uno di fronte all'altro non vedi niente intorno a me no io ho visto diverse cose intorno a te però non ho bisogno di girare lo sguardo perché è come se fosse esattamente nella mia stessa posizione più o meno oppure arrivano anche alla mente a volte vedi attraverso la mente senza dover a volte mi giro perché a volte arrivano anche molto fisici a volte vedi proprio mi confondo a volte se è una persona viva o se è una persona che è di là a volte capita che sono molto fisici cosa hai visto intorno a me? una signora molto piccolina e un uomo un uomo che ti somiglia però non negli occhi tu gli occhi li hai di qualcun altro e non hai un altro te lo dico dopo in privato per me se lo vuoi dire adesso io lo accetto no preferisco io farlo sempre in privato perché sono cose molto delicate ho molto rispetto di questo infatti perché normalmente si ha paura di queste cose perché uno non se le aspetta però io sono aperto nel senso mi piace condividere questa cosa con gli altri ovviamente prendo respiro quando tu mi dici questa cosa perché non è facile no non è facile ma molti mi chiedono anche i contatti a distanza e dicono e agli altri arrivano ma anche a me arrivano però credo che il contatto personale che viene fatto a parte che ti danno tanti particolari che ti portano avanti nel tempo io ho un modo di canalizzare diverso dagli altri però è la sensazione che hai in quel momento che è molto bella perciò deve essere un momento secondo me intimo poi non vivrei più Luca se facessi una cosa così perché tutti mi chiamano tutti cioè già quelli che dicevo a casa ma è giusto che la persona quando deve sentire uno dei suoi cari che sia lì cioè che sia hai capito vicino a livello proprio di anima e ho molto rispetto di questa cosa anche se io ti chiedo di farlo adesso non vuoi farlo? no ok perché penso che potrebbe dare come dire ad altri un segnale concreto e io forse mi sentirei più a mio agio a sentirmelo dire adesso che in privato invece no perché le tue emozioni comunque devono venire fuori se c'è qualcosa di tuo privato particolare cioè è giusto che ce l'abbia tu perché non tutto deve essere detto agli altri di quello che ti dicono vanno a toccare dei punti molto intimi di conseguenza hai capito devono essere tuoi io la penso così tanti mi chiedono hanno chiesto tante volte anche nelle altre trasmissioni di farlo ho sempre detto di no perché è una linea mia probabilmente qualcosa che va bene a me hai capito è una questione di rispetto per la persona che ho davanti e per loro che sono dall'altra parte anzi e io lo rispetto ti ringrazio ti hanno mai predetto qualcosa su tuo figlio? sì mi era successo quando lui aveva 17 anni allora ho sempre avuto la sensazione che lui a 17 anni accadesse qualcosa avevo questa angoscia no? e molti dicevano il numero no io non guardo anzi il numero 17 mi piace molto in quell'anno lì praticamente io avevo il bar con questa mia amica a Natale sono andata a mangiare da lei con mio figlio nella salire a casa sua e da queste scale scende una signora con un ragazzo e io questo ragazzo l'ho visto nella luce come se fosse già di là ma era vivo e infatti gli ho detto con l'eliana ma chi è quel ragazzo lì? mi ha detto è mio cugino Stefano si chiama si chiamava si chiama perché io ce li ho presenti tutti i giorni e mi ha detto perché e gli ho detto perché gli ho visto a molta luce addosso a gennaio questo dicembre a gennaio lui ha avuto un incidente e se n'è andato è andato di là io ho vissuto il funerale di Stefano come se fosse quello di mio figlio perciò è stato un'angoscia da mattina come se Andrea fosse dentro alla barra di questo Stefano da lì ho cominciato a fare dei sogni e ho visto l'incidente che poi mio figlio ha avuto a luglio e dicevo compie gli anni gli succede qualcosa e continuavo a vivere con questa angoscia ho fatto l'anno proprio brutto poi a maggio ho accompagnato la mamma di Stefano a Carpi alla casa dell'albero che c'era una arrivava giù una medium inglese ho detto ti accompagno perché lei aveva fatto i contatti con me con suo figlio ma io preferisco che molti vadano anche da altri perché è giusto avere delle altre situazioni io consiglio sempre ad andare anche da qualcun altro praticamente lei ha fatto la dimostrazione pubblica invece di dare il messaggio a Marilena l'ha dato a me e ha cominciato a dire c'è questo ragazzo in divisa che era mio papà che gli dice di non fumare perché è appena stato operato un polmone ha dato molti particolari con la traduttrice da parte che lei parlava solo in inglese e dice c'è questo ragazzo con i capelli lunghi molto bello che gli dice che ti ha messo nella giacca un pacchetto vuoto di sigarette e mio figlio aveva cominciato a fumare e io ho un pacchetto vuoto di sigarette nella tasca poi io ho visto mio padre perciò mi sono alzata e mi sono fatta riconoscere però lei ha visto mio figlio dall'altra parte ha spiegato un po' il muro del mio bar ha parlato di particolari diversi chiede alla ragazza di Stefano ma tu suo figlio lo conoscevi lei gli dice io suo figlio lo conosco lei gli ha detto in inglese perché parlava inglese lei si è bloccata non ha più detto niente ha fatto un messaggio a un'altra persona poi mi è venuta a prendere mi ha fatto sedere in disparte con lei mi ha detto tu hai questo dono mi viene sempre chiamato e lo devi spargere nel modo giusto devi mandare luce a tuo figlio perché posso andare di là io ero disperata Luca perché dico io come mamma come faccio ad accettare una cosa del genere e ho chiesto un incontro personale con lei a cui sono andata il martedì questo era successo la domenica sono ritornata a Carpi e mi ha fatto prendendo in mano un braccialetto mi ha fatto questo pagando perché ho pagato anche parecchio perché hanno dei prezzi piuttosto alti mi prende in mano il mio braccialetto e mi dice guarda tua nonna ti dice che tuo figlio starà con te per tanto tempo stai tranquilla ma io non avevo non mi passava questa cosa che avevo dentro io la sentivo ancora lui ha compiuto gli anni il 27 luglio il 28 ho avuto un incidente a mezzogiorno mi sono dovuta chiamare gli ho detto è morto perché io era un anno che sentivo questa cosa le mie amiche uguali perché io queste cose le dicevo non si è fatto niente oltretutto quel giorno lì ha cambiato strada per venire a casa da lavorare perché pioveva e un signor anziano ha fatto retromarcia poi è scappato un signor di Milano lui è saltato dall'altra parte della strada senza casco sotto un'altra macchina si è rotto un piede tu mi hai fatto ma non si è fatto niente perciò io non so perché è stata questa cosa non lo so forse doveva andare così perciò questo me l'avevano predetto facendomi patire anche perché per un anno io ho avuto questa angoscia però è vivo cioè si è salvato ecco voglio dire però il 28 è successo tu hai detto che conosci altre persone hai conosciuto nella vita persone che hanno la tua stessa ipersensibilità che rapporto hai con queste persone quando incontri una persona simile a te è respingente o è attraente che domanda sono molto curiosa ti rispondo volentieri allora io facevo convegni ho smesso di fare convegni perché come ti ho detto prima io voglio seguire una mia strada non voglio farmi condizionare da nessuno non sono d'accordo su alcune situazioni perciò ho smesso proprio di fare convegni sono stata un po' scartata perché mi sono rifiutata di fare certe cose e mi sono allontanata devo seguire una strada da sola io ho diverse medium con questi esperimenti che abbiamo fatto con questo gruppo di ricerca ho avuto anche delle medium che mi hanno chiesto dei contatti per alcune situazioni particolari e lo faccio volentieri però non sono d'accordo su tante cose su quello che dicono perciò io voglio seguire una mia linea io non ho mai neanche letto per non farmi condizionare io ho sempre ascoltato quello che mi dicevano giusto o sbagliato che sia non ti dico che sono giusta io però è quello che sento è quello che voglio fare non credo molto alla parola umana ma oltre al loro modo magari di esercitare se vuoi la professione sì chiamiamola così sì quella è un'altra cosa ma a livello energetico quando senti una persona che ha il tuo stesso dono cosa senti dentro di te? devo allontanarmi ok non so per quale motivo però mi devo allontanare anche ho diverse persone che mi contattano pensando che io le porto al successo vengo da te così mi insegni allora intanto non si insegna tu hai una cosa che devi avere dentro per forza non puoi insegnarla poi sì ci sono dei corsi che non so sinceramente cosa si faccia non voglio neanche saperlo che possono probabilmente aiutare ad aprire dei canali quello lì sicuramente a livello energetico però la medianità non si insegna o ce l'hai o non ce l'hai medium è una parola che non mi piace non uso mai perché io non mi sento così è un titolo non mi piace proprio qual è il titolo più giusto per te? sensitiva? no neanche te lo domando perché vorrei usare i termini giusti anche parlando di te guarda io dico un'amica del cielo ti dico la verità cioè non è medium sensitiva così non preferisco dire parlo con i morti cioè la vedo più semplice capito? lo vedo molto semplice questo mondo di conseguenza uso queste parole per quel motivo lì proprio il titolo mi dà fastidio è una cosa che non mi piace ti faccio una domanda tu oggi come stai? benissimo sei felice? benissimo felice cosa ti manca? non mi manca niente cioè sinceramente no qualcosa mi manca mio figlio perché lo vedo poco lui mi manca io attraverso questo programma one more time posso fare qualcosa per te? c'è qualcosa che tu vorresti dire che può tornarti utile? che io possa esserti stata utile in questo momento ti ringrazio allora andiamo con l'ultima domanda anche se in parte mi hai risposto prima perché mi hai detto di sapere più o meno spannometricamente quando finirà la tua vita su questa terra ti voglio chiedere se hai paura no della morte no anzi non vedo l'ora poi di tornare per fare tante altre cose l'ho acquistata nel tempo e non è però adesso sono a questi livelli e sono molto felice di questo perché ho capito insomma quello che ti faccio una domanda io adesso tu hai qualcuno in famiglia che ha sofferto di reni soprattutto al rene sinistro sì mio padre ecco vedi ho avuto un dolore al rene sinistro adesso per quello che ti ho chiesto probabilmente te lo dico perché mi ha fatto sentire questo dolore e ha voluto che te lo dicessi ho avuto questa botta al rene sinistro ha avuto un tumore al rene e gliel'hanno tolto vuoi sempre aspettare di vedermi in privato per dirmi qualcosa sì sì mi è arrivato solo questo te l'ho detto perché mi è arrivato questo dolore ho detto glielo devo dire perché io non ho male i reni perciò è un segnale che mi ha mandato lui ma quando tu senti queste cose hai anche un messaggio per la persona che può riceverlo o normalmente no ma a volte no a volte allora il messaggio arriva sempre a volte si manifesta semplicemente una presenza sì ti dice sono qua probabilmente sa che ti deve dire qualcosa allora sei già pronto però anche io non ho mai avuto un contatto dove non è arrivato nessuno a volte è arrivato una persona diversa da chi si voleva però è sempre io il contatto l'ho sempre avuto ci sono sempre loro perciò non ho mai avuto difficoltà a dire una persona fa tanta strada venire da me ma non riceve il contatto sempre viene io sono collegata continuamente grazie Susi abbiamo finito grazie a te grazie a voi grazie mille grazie a te grazie a te